Bella raga! Oggi andiamo a reagire alla semifinale tra Hydra ed FC9 dell'Hally Hoop Legend Edition 2023. Let's go! Allora, la prossima semifinale sono Hydra contro FC9. E infatti è un po' di casino per questi due. E la madonna! 1, 2, 3! Spettacolo, bellissimo. 3, 2, 1! Mi riconoscono sul palco perché ogni volta che lo faccio caccio sempre skills. Ho battuto così tanti vikings stasera che mi sa che da domani si chiameranno Stranger Things. Non hai capito che Sbrello qua vince sempre perché spacca troppo. Ho provato a cercare la sua cru sopra Google. Mi è uscito un tizio con la barba che si chiama Ragnar Lottbrock. Ma che cazzo è? Tu non hai capito che non mi fotterai. Io vinco sempre le battle di freestyle. Perché Hydra 10 mentre FC9. Non fotti con queste basi, non fotti con queste basi, non fotti. È inutile che ti incazzi. Perché se possiamo dire che Hydra 10 tu è FC9, diciamo che c'eri quasi. Ma vabbè affanculo, il tuo culo frate lo riempio di sborra. In sostanza lo metto dentro il culo ad un maranza che va in giro con la tracolla. Tu sei stupido. Sto coglione lo mando in esubero. Ti metto il cazzo nella tracolla e dopo tracollo e utero. Sto coglione lo mando in esubero. Grande Hydra 10. Grande Hydra 10. Ma sono sicuro che FC9 non sarà da meno. No, 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 no. Due, uno, vai. Dai, di picco sono nei mischilla. Non scopi, infatti il cazzo lo metti nel collo della bottiglia. Quindi stai calmo. Cerchi Vikings, esce fuori Ragnar. Cerco Fea, esce fuori Gischianto. Oh no frate, sul beat cazzo fai con... È vero. Io penso che se scrivi Fea ti esce fuori la canzone della Sdivinas. Perché sono gasolina, gasolina de verda. Numeri. Va così, FC9 la fotta è trompa qua. Io ti culo, ti trombo come fosse trombola. Yeah, senti come va, tu sei un coglione. La sfida di cartello, oggi vinco il cartellone. Quindi, quando sfidi FC9 non è un cartellone. Il cartone è quello che ti fai. Anzi, sopra questo beat, i cartoni sono quelli che prendi se continui così. No cazzo, sulla traccia ti ammazzo. FC9 in freestyle distrugge questo papo. Va così, sta merda è troppo scema. Io ho battuto tutta la fea insieme l'altro ieri sera. Snow! Ok raga, andiamo in quattro quarti. Comincia FC9 stavolta, risponde Hydra. Pronti? DJ Oversi pronto? 3, 2, 1, vai! Ah ah, yeah. L'hai capito? Ne ho di nuove. FC9 vince tra le nuove scuole. L'hai capito? Qual è Borsello? Non è Louis Vuitton. Se si parla del mio cazzo, lui lo vuole. Bellissima, bellissima. Ti schiaccio. Abbiamo dimostrato che è questo un pagliaccio. Anche loro hanno fatto freestyle con Gischianto. A differenza tua non mi vergogno di quello che faccio. Esattamente sulla traccia, zio. A vergognarti di farlo, te lo sto dicendo io. Quindi va così, vai sicuro. Anche io repato con Gischianto, ma almeno non gli ho leccato il culo. Ma chi gli ha leccato il culo? Cosa stai dicendo a ste persone che ti ritrovi di fronte? Siete degli stupidi? Avete fatto la cruda ai Lombardi senza inserire il Lombardo più forte. Il Lombardo più forte è sicuro. Al Lombardo più forte gli do il calci nel culo. Lo batto sul battito. Non fare il cot che dà la capra alla pecora. Fratello, è un attimo. È un attimo. Voglio capire la tua concezione di freestyle. Sulla traccia, sulla traccia, sulla traccia. A me sembra più una puntata di CSI. Zitto. Oggi ti batto e questo è un indizio. Quindi va così. Sulla traccia io mi incavolo. Sulla traccia dove ti batto? Sopra il tavolo. Sopra il tavolo. Ma è sicuro che sto giro a questo scemo. Io li salto addosso. Sopra come un canguro. Poi salto come un paguro. Tu non rigiri le rime. Prendi quello che ho detto. Io decidi di mettermelo in culo. Dico di mettermelo in culo. Hai ragione frate. Non rigiro le rime. Io rigiro te. Quindi va così. Quale canguro compare? Non fare il canguro che io sono marsupiale. No, no. Capito che? Questo non è un fesso. Io l'ho batto. Adesso provoco il tuo decesso. L'unica cosa che devo capire è se devo chiedere di smezare a PLK oppure a Lexon. Hai capito frate? Oggi sono io che ti smezo perché ti ho fatto a metà. Quindi va così fratello. Tu fai cagare. Voglio vedere cosa fai se la gente smette di urlare. Smette di urlare. Cosa vuoi? Che ti dica? È chiaro che alle battle frate vince sempre Idra. Questa battle è stata come quando nevica troppo. in Serie A frate non c'è partita. Bella, 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 bella. Bella, bella, bella. Bella, bella, bella. Domani raga andiamo a reagire alla finale tra Idra e Lexon che è bella lunga. Poi vi porterò magari altre reaction. Datevi a guardare anche gli altri video che ho caricato. Ci sta le selezioni. Parte 1 del Mike Scrauso. Se facciamo subito un bel po' di views vado a fare la parte 2 immediatamente. Poi abbiamo anche l'All Bars Game. Facciamo tutto con calma. Non vi preoccupate. So che sono rimasto indietro però non vi abbandono. Lasciate un bel like e ci vediamo alla prossima. Ciao!